scusate cecchinata dell'anno cecchinata dell'anno parco di oddio oddio lordi vieni qua muoviti muoviti orca madonna what's up guys quel vostro naker che vi parla ragazzi siamo tornati con un nuovo video signori miei siccome il carletto nazionale ha iniziato la trasformazione in carabina ho dovuto prendere dei provvedimenti e tornare agli albori ma non lo so oddio la x50 quanto ho amato e quanto amo la x50 è un cecchino che mi ha sempre regalato soddisfazioni e probabilmente me le regalerà sempre adesso parliamoci chiaro il car potete dirmi qualsiasi cosa ma qualcosa è stato fatto sul car uso i cecchini veramente sempre tutte le ore che gioco a a warzone tutti i giorni quindi se c'è qualcosa che non va fidatevi raga me ne accorgo subito e il car raga soprattutto in long range è stato depotenziato perché non è possibile veramente raga che in distanze anche da 60 70 80 metri a un nemico senza shield lo facevo hit marker non lo one shotavo senza shield e alla fine raga cosa ho dovuto fare ho dovuto rispolverare e fare un paio di passi indietro a x50 raga perché la x50 molti mi di già mi so già che molti mi chiederete perché non l'hdr allora perché non l'hdr ma la x50 allora il pregio dell'hdr è la gittata sapete benissimo che vabbè l'hdr dove puntate il proiettile va da una distanza da 0 a 250 metri 300 circa con la x no la x dovete dare un pelo di vantaggio al proiettile nel momento in cui anche sparate soprattutto un nemico in corsa ma questa è una cosa che poi imparerete nel mentre utilizzate la x50 perché è un cecchino che dà il meglio nel momento in cui voi lo conosciate veramente come le vostre tasche allora ovviamente è più veloce dell'hdr ad entrare in modalità mirino che è una cosa che a me interessa moltissimo due l'ottica l'ottica non è oscurata come il mirino dell'hdr perché quando puntate con l'hdr non vedete più quello che c'è oltre il mirino perché oscura tutta la la cornice oscura tutto lo schermo è una cosa che mi dà estremamente fastidio la grandezza dell'ottica il cerchio completo della x50 è enorme con una cornice di ottica veramente sottilissima inutile che vi dica è stupenda questa cosa qua e ovviamente la leggerezza nel portarlo la x50 non è come il carletto ma non è come un hdr e secondo me su warzone è fondamentale soprattutto se si vuole anche cercare di fare quick scoop o cose del genere perché con l'hdr raga parliamoci chiaro non si può quick scoopare anzi l'hdr è più studiato nel momento in cui magari voi state fermi che non so su un palazzo su una casa e cecchinate la gente quella è diciamo la cosa migliore che vi può dare l'hdr vi parlo adesso del settaggio del nike don è stata la versione più veloce chiaramente con la canna lunga attenzione che si può fare ad entrare in modalità mirino silenziatore mono bloccone canna da 32 che è la canna chiaramente la più lunga è quella che ha la velocità proiettile più avanzata più lunga la canna migliore che potete utilizzare sulla x50 laserone tatticone ottica vabbè inutile che vi dica inutile bellissima quella di base calcio l'arms assassin raga l'arms evader non è quello che ti fa entrare il cecchino in modo più veloce anzi quello che diminuisce l'adl l'entrata in modalità mirino drasticamente è l'arm assassin l'unica cosa che ha in più l'evader a livello di leggerezza è il movimento nel momento in cui vi spostate quando camminate senza puntare dico quando vi muovete con l'arma in mano vi dà quella sensazione un pochino più di leggerezza ma vi posso garantire statistiche proprio alla mano che l'arm assassin è quello che fa entrare lo sniper in modalità mirino più velocemente ultimo accessorio impugnatura a retino questo chiaramente ulteriormente per velocizzare l'arma in modo definitivo ne ho optato per 9 colpi 7 colpi ricarica rapida perché vabbè inutile secondo me su un cecchino utile non utile comunque hai sempre il tempo diciamo di ricaricare il cecchino non è come un assalto una mitraglietta il cecchino comunque quando fightate comunque siete sempre a distanza trovate sempre il tempo di fare tutto allora ragazzoli miei il naikedone nazionale vi lascia alla partita con la x50 spero vivamente che utilizzate questo cecchino non uso quelli di cold war perché non mi trovo sinceramente non lo so non mi piace come entrano in modalità mirino non si riesce mai non si riesce a trovare il settaggio giusto per farlo più veloce possibile non lo so raga magari mi ricrederò ma momentaneamente non mi va proprio di usarli perché non ho la stessa affidabilità come i cecchini di mv soprattutto in questo caso la x50 ovviamente ricordate di lasciare un like al naikedone nazionale passate dalla piattaforma vi lascia se non volete perdervi il naikedone che è sniper a destra e a sinistra e dato che ci siete anche su instagram perché lì verranno caricate le clip quelle più golose guardatevi il video raga bella eh no ma immagino cerberus immagino immagino cerberus è un full team dammi ledgrich occhio ok bro ho letto un po raga io sono muni uno qua su di me è atterrato zoghi mi ha rubato mamma mia no no valli non puoi se non hai completato il pass la skin di roads no vabbè è irrecuperabile bro quanti sono sono due dietro muro eh dai fai guarda uno me lo faccio raga una mano una mano vai uno atterrato no no sono morto troppo mi sono fitto dove sta l'altro capo sono due team due lì e uno a destra vieni verso dietro no no ce l'avete uno qui oh uno mette varie anima uno a terra ancora ma ti butti per terra dio santo uno qua dietro un attimo un attimo è stato mandato madonna bravo 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 ho proprio bisogno di te io credo che se mi fanno diventare una bestia porco zio me li mangio tutti qua dentro uno anti a me fatto ti mani entato no no penne è craccato un altro qui un altro qui un altro qui un altro qui il stato quello lì dietro la macchina lo confermo bro un altro qui dietro qui c'è un bersaglio ma c'è uno qua da me da destra eh bitch hai fatto lori si 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 ma non ho capito dove è uscito questo tetto di superstore raga dai dio cantante mi ha sparato un altro salutiamo cari no no ti sono minchia l'avevo fatto quello me lo maniamo dove cazzo ha sparato l'altro ah quello nel cuore traffico intenso hanno già sparato un bombardo oh madonna santa ma donno non ho già sparare grazie slide grazie bro non ho già sparato non l'avevi sparato che sti cazzo è crashato non male che c'era cari mi dico sta prendendo fuoco sta prendendo fuoco la casa gli è passato gli è passato un cammello davanti a moda ma vince che c'è un segno dell'autoressa ovunque cazzo guardalo lì terra ragazzi deve mettere in terra quelli lì mi sa che non lo confermo l'ho trovato un po' storto ah si l'ho confermato stranamente l'ho confermato ancora non ho capito chi cazzo mi ha ricicchinato ancora ecco raga joker 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 no vabbè raga sul serio raga ci sta sparando raga ci sta sparando il joker no ma è vero serio che ha scorreggiato porco di ocaro di ocaro ti sei cagato addosso porco due osito ma raga niente sto beccando praticamente sulla testa non me ne resta eh in cula guardate cosa mi fa un headshot a caso e me ne sei in cula eh vai affanculo vattene a terra non permi il cazzo mia eh vedi un altro bombardo sono ancora là eh ne ho tirati uno qua boom ora andi qua vedi puttana ancora lui ma cerchi vendetta vendetta vera non finirò in galera faccio finire tutte le corazze giuro terra 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 quello che ho atterrato a terra terra ci senti sotto? esatto io ok ti mani entato davanti a noi dobbiamo un dimmere sotto eh quell'angolino lì è in safe non lo so ma io sono qua guarda dietro lo sniper l'ho fatto bro non so se ce ne sia un altro però uno l'ho fatto lo sniper è che era lì a verde sotto sotto terra uno cazzo contatto contatto guarda un bombardo bro ecco la raga non mi ha preso una no raga veramente raga non mi ha preso una volta questo Raga Io spero che sia un bug Della killcam raga Perché sono un bestemmia Veramente fortissimo Spero che sia un bug Della killcam raga Vi giuro su dio Uno me l'ha data Spero che sia un bug Della killcam raga Raga Guardate ancora il palazzo Da dove? C'è Kino qua davanti Dietro la casa Senza grazie uno Occhio Senza grazie Bravo A terra Vai C'è la autoressa A due Fate provo che non mi serve la kill Uno Che cazzo è raga Occhio raga Stati insieme Stati insieme Stati insieme Stati insieme Stati spritzati Guarda Bravi raga Bravo Bravi 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 Come è che arriva Pesce e cambia la situa Intimità Pinti Atticiamo Sì, 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 sì.